Sei di Pesaro? Ma sei di Pesaro? Davvero sei di Pesaro? Sì, sono di Pesaro. Sotto uno dei precedenti video ho parlato di Pesaro e in tantissimi mi avete chiesto se abitassi proprio lì. Così oggi vi porto a fare un giro nella mia città. Pesaro è una città che a me piace tantissimo, c'è davvero di tutto, dal mare alla montagna, dalle spiagge abbastanza carine per poi farsi un bel giro in centro che non guasta mai. Abbiamo la palla di pomodoro, la casa di Rossini, sì il compositore del barbiere di Siviglia, il teatro Rossini e soprattutto la pizza Rossini, l'avete mai provata? Ci sono anche tante statue, una medusa un po' particolare e una parete fatta di libri molto instagrammabile. C'è un bellissimo palazzetto a forma di astronave, o coccinella, boh decidete voi. C'è poi il porto, carino, è visto dall'alto. Dall'altro ieri c'è anche un casco gigante di Valentino Rossi inaugurato da lui stesso. C'è pure un murales veramente importante. Ed eccoci qua, questa era una buona parte della mia città, e voi di dove siete? Comunque posso finalmente rispondere a tutti quelli che chiedevano... Abbiamo appena visto questo simpatico modo di promuovere la città di Pesaro, l'autore di questo contenuto TikTok è Federico Fontana, che abbiamo oggi qui nei nostri studi. Davvero sei di Pesaro una domanda che ti hanno posto e alla quale hai voluto dare questo tipo di risposta? Eh sì, viene da un video precedente che ho pubblicato sempre sui miei canali di TikTok, in cui parlavo della città di Riccione, esponendo anche il fatto che sono di Pesaro. Allora un sacco di ragazzi della città probabilmente hanno detto sei di Pesaro, sei di Pesaro, sei di Pesaro, e anch'io sono di Pesaro, anch'io sono di Pesaro, e allora ho detto perché non realizzare un contenuto sulla città in cui vivo, promuovendola o comunque facendo vedere le tante belle cose che ci sono presenti in città. Questa è un contenuto che non volendo si inserisce in un modo di promuovere la città, apprezzato anche dalle istituzioni, perché ho visto che hai avuto un ottimo riscontro. Sì, non me l'aspettavo perché inizialmente non era pensata come cosa, però ho visto che il signor Vimini è riuscito a postare sui social il video, che poi è stato visto anche da tutta una serie di altre persone che in città sono abbastanza influenti, e quindi ha avuto il suo discreto successo, sono arrivati tanti complimenti da tante persone della città, e sono molto soddisfatto di questo risultato inaspettato. Ne vedremo altri? Ne vedremo altri molto probabilmente, anche perché arriverà a Pesaro 2024, quindi di eventi ne arriveranno tantissimi, ne è stato fatto un altro sul Palio dei Braceri, e quindi sì, sì, ne arriveranno altri in città sicuramente. Per chi non conosce il mondo TikTok, magari quelli con qualche annetto in più, puoi dare anche una tua valutazione sull'effetto che hanno questi contenuti? TikTok è un mondo molto bello, che dà tanto, e magari valorizza un po' casualmente i contenuti, quindi questo è un aspetto un po' negativo. Posso dire con certezza che comunque è un mondo che dà anche tante possibilità, perché pubblicare un video sui canali di TikTok significa avere tanta tanta visibilità, e quindi questa visibilità, come il mio video, che ha avuto questa possibilità di essere visualizzata da tante persone, è garantita anche tantissimi altri utenti. TikTok è un mondo nuovo, che c'è da qualche anno, che secondo me è un canale che va sfruttato per tutte le sue potenzialità, e secondo me valorizzare la propria città, gli eventi, o comunque tutta una serie di contenuti su questa piattaforma è importante. Noi siamo una televisione e abbiamo visto anche una discreta qualità di riprese e di montaggio. Diciamo che mi sono appassionato al mondo del videomontaggio con le scuole superiori, perché ho fatto il liceo artistico, in cui facevo la sezione di audiovisivo e multimedia, e niente, dopo la passione è continuata, insieme a tante altre, come può essere il canto e la scrittura di canzoni, però il videomaking è rimasto sempre un punto fisso, e che poi durante la pandemia si è sviluppato sulla piattaforma di TikTok, e adesso sta continuando sia su TikTok che su YouTube che su Instagram. TikTok, YouTube, Instagram, nella tua testa, qual è il confine tra il gioco, la passione, o magari qualcosa di più? Il confine è molto sottile, perché fortunatamente attraverso i social si ha la possibilità di lavorare, secondo me, di lavorare divertendosi, cioè perlomeno è quello che io sto facendo in questi anni. Sono molto contento dei risultati che ho ottenuto, posso dare di più, posso arrivare a più persone, so che i social sono un canale da sfruttare e so che sono importanti anche per costruire un lavoro e costruirsi anche un futuro, perché le collaborazioni, facciamo un esempio, con i brand sono importanti e si stanno sviluppando sempre di più sui canali social.